ariete urano in transito da tempo nel vostro segno entra in aspetto di opposizione con venere e provoca una sorta di destabilizzazione a livello sentimentale novità colpi di fulmine talvolta rotture sono in agguato la vostra voglia di uscire dalle cose ordinarie è notevole toro umore dai toni spenti oggi vittime di un nervosismo che dipinge una giornata grigia mentre avete dalla vostra parte sole e mercurio che vi incoraggiano ad esprimere le vostre capacità comunicative a frequentare amici reagite quindi con positività gemelli mentre si alleggerisce la conflittualità del vostro quadro astrale godetevi questo momento di gloria in ambito amoroso venere giove sostengono benessere e ambizioni ed anche la luna oggi vi avvolge nei suoi effetti sentimentali e ottimisti cancro prontezza mentale e voglia di movimento sono le caratteristiche del momento ancora in parte benevolo mentre venere dissonante acutizza qualche malessere in amore o vi rende particolarmente sensibili alla solitudine giove si pone in aspetto disarmonico e consiglia prudenza in ciò che fate leone l'opposizione della luna oggi vi innervosisce e abbassa le percezioni emotive offuscando la positività di un periodo che vi vede carichi di energie passionali di progetti ambiziosi da portare avanti ciò che intraprendete adesso avrà molte probabilità di successo vergine una intensa progettualità caratterizza questa fase astrale che vede sole e mercurio congiunti nel vostro segno nuovi programmi nuove idee possono portare una ventata di entusiasmo anche se sono possibili alcune contrarietà dovute alla dissonanza di marte saturno che frena il vostro impeto bilancia giornata brillante ed emotivamente armonica giove sta entrando nel vostro segno e promette opportunità e protezione per raggiungere obiettivi importanti o farvi semplicemente vivere in serenità venere in transito vi inclina all'amore a costruire ponti con chi amate scorpione l'intelletto vivo e brillante oggi non compensa le percezioni emotive cupe e nervose rischiate di farvi sfuggire un'occasione importante per una reazione sbagliata cercate di mantenere equilibrio e self-control ne guadagnerete anche in tranquillità sagittario la pesantezza del transito di saturno con i suoi freni dovete ancora tollerarla per un po' ma si aprono altre splendide possibilità con le angolazioni favorevoli di giove venere e urano che portano novità espansione amore e benessere nella vostra vita capricorno in equilibrio psicologico e fisico progredite in una fase ancora abbastanza benevola ma le prospettive cambiano un po' con giove e dissonante dal quale non potrete più ricevere molte glorie le vostre risorse dovranno essere sufficienti massaggi come siete saprete come destreggiarvi acquario la luna nel segno oggi amplifica la ricettività il sentimentalismo e crea le basi per una giornata armoniosa forti di un cielo astrale molto favorevole avete in mano le sorti delle vostre ambizioni più alte potete osare e qualcosa di buono vi accadrà pesci incertezza e una vena di demotivazione possono avvolgere ancora questo periodo ma le configurazioni astrali che vi riguardano volgono a migliori angolazioni e alleggeriscono il fardello che ultimamente dovete sostenere coltivate la fiducia e seguite l'istinto buone stelle